Un pericolo scongiurato in extremis, un'opportunità da sfruttare senza perdere altro tempo. I comuni costieri della BAT potranno utilizzare i fondi già messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente per le opere di riqualificazione della costa. 15 milioni di euro complessivi da dividere tra Barletta, Trani, Biceglia e Margherita di Savoia per le attività di rigenerazione territoriale. Soldi che tuttavia rischiavano di andare perduti a causa della burocrazia e dei forti ritardi accumulati dai comuni nell'attuazione degli interventi. Ieri pomeriggio è arrivata la buona notizia al termine di un incontro tenutosi tra Regione Puglia, Provincia BAT e le quattro città interessate, nel corso del quale si è riuscita ad ottenere la rimodulazione, entro il prossimo settembre, dell'accordo di programma già stipulato nel 2016. Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale Filippo Caracciolo. I comuni hanno già ottenuto, avendo sottoscritto l'accordo di programma nel 2016 con la Regione e il Ministero dell'Ambiente, le somme per le quali hanno sottoscritto appunto l'accordo di programma impegnandosi a realizzare opere fondamentali ed importanti per la costa. Ieri nell'incontro che c'è stato in Regione, convocato dalla Regione dopo aver incontrato il Ministero la settimana scorsa, sono stati convocati i comuni alla provincia e c'è stato questo incontro anche con il Ministero in teleconferenza nel quale il Ministero ha ribadito l'esigenza di dover, per il bilancio, di dover rispettare rigorosamente le date dell'accordo di programma. Per cui tutti e quattro i comuni purtroppo sono in ritardo rispetto agli impegni assunti nell'accordo di programma. Siamo riusciti a strappare al Ministero Cusa. Innanzitutto i comuni presenteranno alla Regione entro il mese di agosto un cronoprogramma delle attività dettagliato, soprattutto rispettando le date degli interventi. Con questo cronoprogramma delle attività la Regione entro il 20 settembre incontrerà il Ministero che ha concesso una rimodulazione sull'accordo di programma. Dei 15 milioni messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, circa la metà, 7 milioni e 500 mila euro, sono destinati alla sola città di Barletta per risolvere problematiche datate come quella del canale H, del collettore D e dell'erosione costiera. Questioni che adesso potranno essere affrontate con nuove risorse, a patto che venga rispettato dai comuni beneficiari del finanziamento il cronoprogramma delle attività da svolgere. La città di Barletta che ha ottenuto metà del finanziamento, 7 milioni e mezzo di euro, e con questi 7 milioni e mezzo potrà risolvere l'annoso problema del canale H e quello del collettore D del porto, perché sento parlare tanti, molti si esercitano a vuoto a parlare soltanto delle cose che non vanno, ma nessuno si impegna affinché si creano opportunità come queste.